Penso che non ci sia uno sport, non ci sia sport migliore che possa rappresentare la vita di tutti i giorni, dove uno per qualsiasi cosa ti puoi cadere e devi avere la forza di idealzarti e andare sempre avanti, non fermarsi mai. Io insieme a mio fratello è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi di Mottola. Grazie a tutti.